Ciao a tutti ragazzi, sono Victor, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è una giornata diciamo storica da un punto di vista negativo. Infatti come sappiamo l'11 settembre del 2001 le Torri Gemelle nella città di New York, nel quartiere di Manhattan, hanno subito un attentato da parte dell'organizzazione terroristica guidata da Bin Laden. Ovviamente è un momento di grande tristezza per tutte le famiglie che hanno perso qualcuno e anche un momento storico che ha segnato il futuro del paese, degli Stati Uniti e anche a livello internazionale ha sicuramente lasciato la sua impronta. Ma oltre a tutto questo è anche un avvenimento oggetto di una delle più grandi teorie del complotto ad oggi esistenti. Oggi voglio analizzare insieme a voi questa teoria basandomi sul metodo scientifico e andare a vedere se ed eventualmente come la teoria del complotto possa valorare la sua tesi e quindi confermare che le Torri Gemelle sono state tutto un diversivo. Analizziamo innanzitutto i mandanti dell'attentato. Il complotto dell'11 settembre si basa su un presupposto iniziale che prevede un accordo fra Bush e i servizi segreti che avrebbero messo in piedi tutta questa messa in scena per avere la scusa di invadere l'Afghanistan. Le principali prove a sostegno di questa tesi sono due. La prima è che gli Stati Uniti avessero effettivamente interesse nell'invadere l'Afghanistan. La seconda è che Bush e Bin Laden fossero segretamente in affari insieme. Innanzitutto c'è da dire che il fatto che gli Stati Uniti avessero effettivamente un interesse a invadere l'Afghanistan non è chiaramente una prova sufficiente ma tutt'al più un indizio che qualora dimostrato avrebbe bisogno di ulteriori prove per dare giustificazione a quello che è successo dopo. In secondo luogo è scorretto dire che Bin Laden e Bush erano in affari insieme perché questo concetto è stato rielaborato per portare supporto alla teoria del complotto. Quindi tramite il principio psicologico del riadattamento il complottista dà una spiegazione alla sua teoria. Ma in realtà ci sono dei dettagli che mancano nella spiegazione. Infatti le famiglie di Bin Laden e Bush avevano effettivamente delle partecipazioni all'interno della stessa società petrolifera. Tant'è che Bin Laden stesso, nato in Arabia Saudita, ha poi dovuto trovare accoglienza in Sudan e successivamente in Afghanistan poiché è allontanato dalla famiglia che stava seguendo un percorso filoamericano. Quindi è scorretto dire che la famiglia Bush e la famiglia Bin Laden erano in affari insieme ma semplicemente avevano appunto degli investimenti economici nella stessa società. Ma questo, come possiamo capire, non prova nulla. In questo caso quindi si tratta di una teoria che viene riadattata a supporto della teoria complottista storpiandone il significato. Questo principio è uno dei principi base dell'antimetodo di cui non parlerò in questo video perché è un concetto troppo lungo. Ciò nonostante il fatto che gli Stati Uniti e Bin Laden fossero nemici è un'evidenza storica. Infatti Bin Laden ha fondato Al-Qaeda nel 1988, è responsabile negli anni 90 degli attentati in Kenya e Tanzania nonché dell'attentato al cacciatorpediniere Cole nel 2000. Inoltre nel 99, nel 2000 e nel 2001 l'ONU aveva già attuato tre risoluzioni nei confronti dei talebani precedenti all'11 settembre che dimostra come non solo gli Stati Uniti ma l'intera comunità internazionale fosse da tempo a caccia di Bin Laden. Anzi l'ultima risoluzione era stata data ai talebani proprio come ultima spiaggia affinché consegnassero Bin Laden alle autorità. Le risoluzioni le potete trovare sul sito ONU, sono la numero 1267, la 1333 e la 1363. Ma al di là di tutti questi ragionamenti il principio logico viene a cadere, in quanto se Bush e Bin Laden erano in affare insieme e gli Stati Uniti hanno messo insieme questo complotto per avere una scusa per invadere l'Afghanistan, viene da chiedersi come mai la CIA non abbia trovato uno dei milioni di motivi alternativi per poterlo fare. Ma anzi se la si è andata a prendere con l'unica persona che non solo non era afgano ma era anche in accordo con il Presidente? Capite bene che questo lascia un minimo di incoerenza all'interno del ragionamento. Ma il complottista ragiona tramite il ragionamento che viene definito a compartimenti stagni. I complottisti sono talmente concentrati a dover trovare una prova a sostegno della loro idea che non fanno caso al fatto che lo sviluppo della storia a partire da quell'idea porta ad un finale completamente senza senso, come in questo caso. Secondo i complottisti infatti il fatto che le famiglie a livello azionario facessero parte della stessa compagnia è una prova sufficiente a giustificare tutto quanto. Ma ovviamente in questo caso se dovessimo seguire il metodo scientifico dovremmo non solo avvalorare la nostra tesi ma trovare delle valide prove scientifiche chiaramente o logiche che smontino anche la teoria che afferma che l'attentato è avvenuto veramente. E la teoria del complotto come vedete in questo caso ignora diversi punti che sono a sostegno della veridicità dell'attentato alle teorie gemelle e si preoccupa solo di formulare ipotesi che non sono assolutamente collegate l'una con l'altra. Inoltre basta pensare all'Iraq nel 2003. Gli Stati Uniti hanno falsificato dei documenti inscenando una farsa che attribuiva a Saddam Hussein il possesso di armi chimiche. L'ONU ha scoperto la falsificazione di questi documenti e alla fine della corsa gli Stati Uniti hanno invaso comunque l'Iraq, contraverendo a qualunque diritto internazionale. Il prezzo di questo complotto e di questa farsa? Un foglio di carta stampato. Quindi viene da chiedersi come mai la CIA abbia dovuto mettere in piedi questa cosa così dispendiosa anche a livello economico, quando sarebbe bastato molto molto meno e inoltre non c'era necessità di trovare una scusa perché la scusa c'era già. Inoltre come abbiamo capito dalla questione Iraq gli Stati Uniti hanno un potere enorme all'interno dell'ONU che non è stata in grado comunque di fermare l'invasione nel paese medio orientale. Quindi da parte degli Stati Uniti nella situazione dell'Afghanistan sarebbe bastato mettere un po' di pressione in più e convincere l'ONU a forzare prima la mano. Ma passiamo ora al crollo delle torri gemelle in sé che è uno degli argomenti preferiti dei complottisti. Infatti il crollo fisico delle torri gemelle secondo i complottisti non è possibile per diverse ragioni. Andiamo a vedere quali e andiamo a spiegare meglio quali sono le motivazioni reali. La prima cosa che i complottisti affermano è che il carburante brucia a una temperatura insufficiente affinché l'acciaio si fonda. Infatti il carburante brucia a circa 800-850 gradi e l'acciaio fonde a 1500. E questa cosa è assolutamente reale però bisogna considerare due cose. Innanzitutto una volta che i serbatoi dell'aereo sono esplosi all'interno della struttura ha preso fuoco altro materiale mobili tappezzeria tende eccetera quindi la temperatura ha raggiunto ben oltre gli 850 gradi in quanto c'erano anche altri oggetti e altri materiali che stavano bruciando. Inoltre bisogna considerare che l'acciaio non è che arriva a 1499 gradi senza che succeda nulla e a 1500 improvvisamente si scioglie. Questa è un'immagine un po' da cartone animato. Infatti le analisi sull'acciaio dimostrano che già a 600-650 gradi l'acciaio perde circa il 50% della sua resistenza. Quindi anche se non siamo alla temperatura di fusione la struttura a livello proprio meccanico subisce degli ingenti danni e anche qui i dati scientifici vengono riadattati dal complottista secondo il principio appunto di riadattamento per far sì che siano coerenti con la sua idea. La seconda cosa che i complottisti sostengono è che il crollo delle torri gemelle sembri più un'esplosione controllata. Una simile affermazione però è basata semplicemente sul principio psicologico dell'apofenia e del principio di coerenza. Infatti se proviamo ad osservare il crollo a rallentatore di una struttura tramite un'esplosione controllata e osserviamo il crollo delle torri gemelle ci accorgiamo che sono molto diversi. Infatti durante una demolizione controllata la base della struttura è quella ad esplodere prima poi a effetto cascata farà cadere tutti i piani superiori rimanendo sul posto e quindi controllando la demolizione. Nel caso delle torri gemelle si vede chiaramente come sia la parte superiore in particolare nella zona in cui l'aereo ha colpito la struttura a essere quella che cade per prima e poi ad effetto domino tutti i piani inferiori sarebbero caduti trascinati dalla struttura superiore. Quindi gli sfiati di fumo che si vedono uscire dalle torri gemelle non sono la prova di esplosioni interne come molti pensano ma non sono la prova assolutamente di nulla. Infatti se fossero delle esplosioni la struttura comincerebbe a cedere da quel punto. A questo punto il complottista potrebbe obiettare sì ma se quella parte di piani al di sopra dell'impatto erano sorretti prima dalla struttura perché non sono rimasti sorretti anche dopo? Questo ragionamento è frutto del principio Dunning-Kruger ovvero un principio che sintetizzato al massimo afferma che più ignorante sei più pensi di sapere. Infatti questa affermazione che molti complottisti portano a sostegno della propria tesi è il fatto che è frutto dell'ignoranza sui principi fisici e del comportamento meccanico dei materiali. Infatti non bisogna confondere il carico statico con il carico dinamico. Facciamo un esempio pratico per capire meglio quello che voglio dire. Mettiamo a caso di prendere una cassa di birre e appoggiarcela sopra la testa. Ovviamente ammesso in chiaro che sta in equilibrio non sentiamo dolore perché è il peso di una cassa di birre. Adesso proviamo a sollevare di 20 centimetri sopra la nostra testa questa suddetta cassa di birre e improvvisamente da questa altezza mollarla sopra la nostra testa. Sicuramente non finiremo in ospedale però capite bene che il dolore è diverso. Passiamo da non averne affatto a ouch. Questo discorso si applica perfettamente alle torri gemelle. Quando la struttura è integra si sorregge perfettamente. Dal momento che un piano viene completamente o quasi completamente raso al suolo dall'aereo abbiamo 10-15 piani di peso che dall'altezza di 3-4 metri vengono mollati lasciati completamente cadere sopra ad un palazzo. Capite bene che questo può giustificare il crollo totale della struttura e infatti per chi di voi un ingegnere ha voglia di mettersi a fare due conti può capire benissimo che fisicamente ha senso che la struttura crolli. L'ultima cosa che i complottisti portano a sostegno delle loro teorie è il fatto che ci siano più di 2000 ingegneri che hanno svolto degli studi sulle torri gemelle e hanno confermato che c'è qualcosa che fisicamente non quadri. E questa è una palese violazione fra le tante del rasoio di Ockham. Ci sono 2000 ingegneri che dicono che le torri gemelle sono alla luce dei fatti un complotto effettivo. Ma quanti ingegneri ci sono nel mondo? Tutti questi ingegneri hanno svolto uno studio sulle torri gemelle? Cosa direbbero tutti questi altri ingegneri? Effettivamente ci sono decine di migliaia di ingegneri che hanno svolto degli studi sulle torri gemelle e confermano totalmente il contrario. Quindi a quali esperti credere? Ce lo dice il nostro principio di coerenza. Quindi io crederò alle teorie che mi confermano già quello che io sto pensando. Ovviamente capite bene che questo è totalmente contrario al metodo scientifico. Inoltre se il crollo delle torri gemelle fosse stato veramente falso, questi principi fisici così banali avrebbero ingannato decine di migliaia di ingegneri. Perché parliamoci chiaramente ragazzi, l'analisi di queste cose da un punto di vista ingegneristico è veramente da primo anno di università. Un qualunque studente con una buona preparazione riuscirebbe a smontare il complotto in cinque minuti. Dobbiamo renderci conto ragazzi che dando dei complottisti a questi personaggi gli stiamo attribuendo allo stesso tempo due cose. Un'abilità di strategia fuori dal comune e una stupidità immane nel saperla realizzare. Bene ragazzi questo video è durato fin troppo. Questa era un'analisi che ovviamente non è solo mia di quello che riguarda il complotto delle torri gemelle. Come vedete il complotto si basa su delle teorie che non sono molto logicamente e scientificamente collegabili fra loro. Se siete interessati a saperne di più fatemelo sapere nei commenti lasciando un bel like a questo video. Se siete interessati quindi a saperne di più sulla teoria del complotto del pentagono e in generale la teoria del complotto che circonda quella delle torri gemelle fatemelo sapere nei commenti e con un bel mi piace a questo video. Ovviamente allo stesso modo se siete interessati ai principi psicologici di cui abbiamo parlato in questo video fatemelo sapere. Io vi saluto ragazzi qua è Victor passo e chiudo e noi ci vediamo al prossimo video.